Una nuova sede che coniuga la cucina giapponese e la qualità delle materie prime è targata Tuccino. Inaugurato a Polignano è incontrata a Santa Caterina un nuovo bistrò con vista mozzafiato sul mare. Si chiama Bissi e sorge su un piccolo molo accanto alle vasche, un tempo utilizzate da Tuccino per il deposito dei mitili. Aperto tutto il giorno si inizia con la colazione al mattino, poi una proposta di sei piatti e rigorosamente sushi che diventano dodici nel menù per la fascia serale. Altro pezzo forte, i cocktail preparati da due bartender professionisti. Creiamo questa attività giovanile, andiamo un po' sul giovane. Il ristorante rimane sempre quello che fa, il ristorante Tuccino che è un'istituzione non solo in Impuglia ma anche in tutta Italia. A completare il progetto di restyling le tre di Tuccino, Sweet Luxury, ognuna dedicata a tre pilassi della famiglia Centrone. Allora le tre stanze sono intitolate una a mio suocero, naturalmente Tuccino, l'altra come prima nel discorso stavamo parlando, il bastone della famiglia sarebbe Tonetta mia suocera e poi l'altra è dedicata a mia cognata che non ho mai conosciuta, che è morta giovanissima, che è nata contro i problemi naturalmente fisici e la stanza è per portatori di handicap. Sono tutti e tre uguali, solamente la stanza di Ezia è diversa per quanto riguarda chi ha problemi naturalmente motori. Grazie a tutti.